ciao questo è un segna via del cai e nel video di oggi vediamo quali sono e che informazioni ci danno in italia la sentieristica di alpi appendini viene gestita dal cai il club alpino italiano il cai è un'associazione costituita da soci volontari e secondo la legge italiana è il cai che deve provvedere alla tracciatura alla manutenzione alla gestione dei sentieri e delle opere alpine per una gestione organizzata dei sentieri il territorio nazionale è stato suddiviso in zone che corrispondono alle province e alle regioni ciascuna zona poi viene suddivisa in settori un settore è una porzione di territorio omogeneo dal punto di vista morfologico e geografico all'interno di ciascun settore possiamo trovare un massimo di 99 sentieri la regione friuli venezia giulia ad esempio è divisa in 10 settori dal numero 0 al numero 9 i colori utilizzati dal cai sono il bianco e il rosso il rosso viene utilizzato perché è un colore sgargiante che si nota bene sulle rocce e sui tronchi soprattutto nella stagione invernale con la neve il bianco invece risalta soprattutto di notte alla luce della luna e alla luce delle torce frontali il bianco e il rosso vengono utilizzati sia per la segnaletica verticale che per quella orizzontale questo è un esempio di segnavia verticale su apposito sostegno questo qua è una tabella segnavia questo tipo di segnavia lo possiamo trovare solitamente all'inizio degli itinerari oppure negli incroci importanti come vedete è un cartello con la punta rossa e la coda bianco rossa la punta indica la direzione del sentiero sulla tabella possiamo vedere la meta ravvicinata la meta intermedia e la meta dell'itinerario con i relativi tempi i tempi di percorrenza sono calcolati circa su una persona mediamente allenata che in grado di coprire circa 300 metri di dislivello l'ora sulla coda abbiamo nella parte bianca il numero del sentiero come vedete il numero è dato da il numero del sentiero è dato da tre cifre la prima cifra corrisponde al settore dove mi trovo per cui pre alpi orientali e le altre due indicano il sentiero per cui ora io mi trovo sul sentiero 52 del settore 7 la segnaletica orizzontale solitamente viene utilizzata al suolo sui sassi o sui tronchi di albero e serve ad indicare la continuità in entrambe le direzioni del sentiero segnalato questo è un segna via semplice segna via semplice è formato da due bande orizzontali una bianca una rossa viene utilizzato appunto per definire la continuità del sentiero lo possiamo trovare circa ogni 200 300 metri sui sentieri semplici oppure più ravvicinato se il sentiero è difficile simile a questo e facente sempre parte della segnaletica orizzontale c'è il segna via bandiera il segna via bandiera è formato da righe rosse bianche rosse all'interno del bianco viene ripetuto il numero del sentiero lo possiamo trovare all'inizio del sentiero o in punti critici e serve a confermare la continuità del sentiero attraverso il numero nei pascoli o in zone prative tipo questa dove non ci sono elementi naturali su cui apporre il segna via per indicare il sentiero viene utilizzato il picchetto segna via il picchetto segna via non è altro che un paletto di circa un metro metro e mezzo sulla cui sommità viene disegnato un segna via semplice o un segna via bandiera in ambiente roccioso dove non è possibile piantare i paletti viene utilizzata un'altra tipologia di segna via ovvero lo metto in pietra lo mette lo metto in pietra è una piccola costruzione di pietre alta circa 40 50 centimetri facilmente visibile anche in caso di brutto tempo assieme ai segnali bianco rossi nel bosco è possibile trovare segnali di altri colori come ad esempio giallo rossi o bianco blu questi non indicano alcun sentiero bensì vengono utilizzati dalla forestale per suddividere le particelle forestali ovvero i vari appezzamenti di bosco sentieri tracciati da enti differenti dal cai come possono essere le proloco le associazioni naturalistiche possono utilizzare una segnaletica completamente differente questa ad ogni modo verrà indicata in un tabellone informativo all'inizio dell'itinerario io per oggi ti ho detto tutto spero che queste indicazioni ti possano essere d'aiuto per le tue escursioni future se sei interessato nell'argomento e vuoi approfondire ancora di più la sentieristica del cai ti invito ad andare sul mio blog a leggere l'articolo che ho scritto il link lo troverai sotto in descrizione io ti ringrazio per la visione se non sei ancora iscritto al canale ti invito ad iscriverti a lasciare un mi piace e lasciami anche un commento inoltre potresti fare anche un giro sul mio blog dove troverai diverse pagine interessanti tra arti con le escursioni equipaggiamento e fotografie io ti ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video nei boschi ciao un'ultima cosa prima di lasciarti vorrei dirti di cliccare sulla campanella che trovi tra il mio nome e il numero di iscritti ci clicchi sopra e poi ti chiederà se vuoi ricevere le notifiche così anche se ti dimentichi di me ti appariranno le notifiche e non perderai mai nemmeno un video grazie ancora ciao ciao